bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi giochiamo a giochiamo a nominare scrivetelo sotto nei commenti vabbè già si capirà ecco foot draft si capita che si capita si si capisce ecco ragazzi cominciamo con questa bella formazione 4 4 2 io ora faccio la serie però visto che non esce nessun giocatore della serie a prendo ecco insegne ecco qua eppure lui anche se è scarso ragazzi devo prendere le forze giocatori della serie a così arriva a 100 ecco tipo qui non c'è seguitemi su fortnite mi chiamo pilota canzelle 29 vi lascio il link in descrizione qui sotto e se mi volete invitare invitatemi il tuo anche se volete venire nel mio team ok grazie ora non vi faccio un immo di testa e incominciamo cioè incominciamo non parlo spina o spina ragazzi ragazzi voi dite che sto facendo però guardate in aria e in aria in alto in alto esce scritto 69 invece se metto a florenzi 83 vedete la differenza ecco che si incomincia a laggare tutto ragazzi ragazzi aspettate non mi sono messo non mi sono messo a matuti lo metto qui dai 86 ci va bene oppure se facciamo così 87 non cambia un cap lo 84 qua cambia questo lo mettiamo qui no 84 che schifo ragazzi sto facendo schifo veramente ragazzi ragazzi ci manca solo un attaccante addirittura proviamo a mettere scrivere in attacco ragazzi no si da meno un difensore in attacco ma chi ci penserà ragazzi no si da meno che cosa posso mettere no se facciamo così e facciamo così no ragazzi ragazzi ecco è finita ragazzi qui sicuramente perdiamo perché non abbiamo trovato un attaccante e quindi c'è della serie a e quindi siamo 87 allora seguite pure i miei cugini su youtube uno si chiama ecco il no scusate uno si chiama ninja italia e l'altro l'altro non mi ricordo dopo ve lo lascio in link in descrizione col mio nome di fortnite e andiamo a fare questa partita dai ragazzi dai dobbiamo giocare contro l'inter so che perderò perché ve l'ho detto già eh infatti ve l'ho detto già che ci schianta perché ve l'ho detto perché noi non non teniamo le forze ecco ho perso ne facciamo un'altra e non lo so dai poi consigliate e la pubblicità consigliatemi voi qualche gioco da scaricarmi qui sotto nei commenti e niente guardate questo video grazie di dio dai ragazzi lasciate un bel mi piace iscrivetevi alla campanellina e arriviamo non lo so anzi scegliete voi dai scegliete voi anche se ne siete in pochi però non fa niente dai condividete questo video fate iscriver iscriversi ai vostri amici niente ragazzi niente ragazzi dai non so perché dico sempre niente ragazzi però sono fissato ragazzi ragazzi vi vorrei portare un video che gioco a fortnite con i miei cugini però non so se posso devo vedere un poco con cioè con come devo fare perché non lo riesco a fare ok ragazzi manca il portiere un bel scesni va bene che schifo però noi prendiamo andano dice che è più forte ragazzi 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 prendiamo a lopes che anche lui è fortino oh zapata lo mettiamo a posto di questo qui chi cacchio lo sa canselo è buono per metterlo qui si dai ci da 90 manca l'ultimo e andiamo a 100 dai ragazzi dai questo qui chi cacchio è oh è 97 99 ragazzi manca un bel giocatore questo mettiamo qua ragazzi siamo arrivati a 100 non dire che fare in panchina cacchio e niente ragazzi siamo a 100 vediamo di vincere queste partite dai lasciate un bel mi piace lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale e gra 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 dai ragazzi dai dobbiamo giocare contro lo shark 0-4 vediamo cosa facciamo dai stiamo perdendo 1-0 2-0 madonna i cardi un altro gol mio dai no ragazzi e niente ragazzi questo video finisce qui noi abbiamo la sfortuna e niente vi ricordo ora vi lascio il link in descrizione anzi aspettate prima di andarmene allora scusate ragazzi allora faccio una cosa aspettate faccio così faccio così allora non mi ricordo come si faceva vedere qui no non era qui scusate ragazzi io ecco qui era allora troviamo 65 dollari e andiamo a spacchettare questo qui vediamo cosa si esce è bello attenzione giappone che schifo chi è kagawa kagawa ragazzi andiamo a fare questo qui perché teniamo pochi soldini svezia chem lipsia fosberg ragazzi 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 che cacchio che cacchio arsenal che cacchio arsenal è eee luci steiner questo giocava nella juve giusto si giocava nella juve ragazzi abbiamo questi qua d'argento che fanno schifo germania che squadra è quella non lo so 74 ma che schifo ragazzi e niente ragazzi questo video di oggi finisce qui e niente vi invito a lasciare un bel mi piace iscrivetevi al canale condividete questo video e niente ciao ciao papepam papepam ciao ragazzi